Perché se voi non ci aiutate, se voi con il vostro colpo di matita non andate a segnare Movimento 5 Stelle e non ci date la vostra fiducia, noi tutti questi discorsi che facciamo continueremo a farli, ma non avranno la stessa incidenza se siamo là dentro, non cambierà nulla. Urleremo, saremo sicuramente le sentinelle, ma se urliamo da fuori il palazzo resterà sempre di pietra e cemento e le nostre urla rifrangeranno su quel muro. Se invece siamo là dentro, le nostre urla demoliranno questo sistema marcio e corrotto. E' per questo che vi dico, se voi votate noi, vingete voi! Grazie! Grazie Salvo. Passiamo la parola, sapete che questa sera si parla anche di elezioni europee, abbiamo qui con noi una delle nostre candidate che è Simona Suriano. Vi ricordo che potete esprimere fino a tre preferenze. Tutti i ragazzi che abbiamo scelto sono tutti laureati, parlano le lingue straniere, sono sconosciuti nei palazzi di giustizia perché sono tutti incensurati, fuori dalle segreterie. Adesso ci dirà qualcosa e poi dovrà andare via, non perché è come il solito politico, ma perché deve raggiungere un altro gruppo che a Messina in questo momento sta facendo la stessa cosa e comunque sta succedendo in decine di piazze in tutta la Sicilia e in tutta Italia. Noi non organizziamo cenoni, non facciamo incontri nelle segreterie, preferiamo le piazze dove possiamo essere ascoltati. Grazie Simona. Buonasera, mi presento, sono Simona Suriano, 35 anni, avvocato catanese, un master in relazione internazionale e come ha detto benissimo Angela sono stata selezionata dal web dai cittadini. Non sono stata messa lì, non sono stata calata da nessun segretario di partito, non ho il mio pacchetto di voti alle spalle, non ho la mia cordata, ma sono semplicemente una cittadina normalissima che ha dal 2007 questa passione, quella di cambiare l'Italia, di cambiare il paese dove vivo. Dal 2007 infatti mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle e da allora non sono mai uscita da questo progetto, ci credo veramente e oggi mi sono candidata per il rinnovo del Parlamento europeo perché purtroppo non tutti sanno quant'è importante essere anche lì dentro. Infatti il Parlamento europeo da Bruxelles partono la maggior parte delle leggi che poi incidono sulla nostra vita quotidiana, circa il 70-80% delle leggi che noi emettiamo, altro non sono che il recepimento di direttive, di regolamenti che provengono da Bruxelles, piuttosto che trattati che l'Italia deve ratificare perché ha ratificato l'Unione Europea. Quindi è importante per noi essere lì dentro per controllare queste direttive, questi regolamenti, questi trattati, anche perché sinora gli eurodeputati italiani hanno un triste primato che è quello di un altissimo assenteismo, non sono stati presenti e questa ha portato alla conseguenza di essere vincolati a trattati che a noi non fanno del bene, che a noi ci strangolano. Infatti i nostri punti vogliono abolire questi trattati, in particolar modo il fiscal compact. Il fiscal compact impone all'Italia di ridurre il debito pubblico da qui ai prossimi vent'anni. Per ridurre il debito pubblico dobbiamo trovare risorse di circa 50 miliardi di euro l'anno. 50 miliardi di euro l'anno. Che l'Italia come va a trovare? Ovviamente tagliando sempre la sanità, servizi sociali, aumentando le tasse. Sempre dalle tasche dei cittadini va a trovare i fondi, i soldi. Mai tagliando i privilegi, mai tagliando le risorse o le pensioni d'oro. Le pensioni d'oro sono considerati diritti quesiti. Il signor Cuffaro in carcere ha un vitalizio da 6 mila euro. Questi non vengono toccati, questi soldi. Sono quelli dei cittadini che già stiamo raschiando il fondo, che dobbiamo ancora ulteriormente sacrificarci. Perché? Perché ce lo chiede l'Europa. Ma in Europa chi c'è stato? Non facciamo parte anche noi dell'Europa? Questo perché finora gli italiani non sono stati mai in Europa, non hanno mai fatto gli interessi dei cittadini. Abbiamo fatto solo gli interessi delle banche, delle multinazionali, dei grandi poteri. Quindi il Movimento 5 Stelle vuole cambiare questo modo di fare Europa. Noi non siamo per l'uscita a tutti i costi dall'Europa, per l'uscita dall'euro a tutti i costi. Noi vogliamo stare dentro l'Europa, ma che sia un'Europa più umana, più vicina ai cittadini. Dove lo spirito comunitario riemerga. Quello che i padri fondatori, quando hanno voluto il progetto comunitario, avevano in mente. Che era quello di una coesione sociale, di uno sviluppo armonico dei paesi, di uno sviluppo dell'occupazione. Proprio nei trattati istitutivi c'è la parola sviluppo dell'occupazione, aumento dell'occupazione, sviluppo economico dei paesi. Oggi si assiste a tutto tranne a questo sviluppo economico. Forse alcuni stati hanno avuto grandi vantaggi entrando in Europa, entrando nella moneta unica, ma tanti altri hanno avuto svantaggi. E se c'è qualcosa che non va, è giusto che insieme, così come dobbiamo stare nel bene, dobbiamo stare insieme anche nel male. Qualcuno deve aiutare. Siamo una comunità, una comunità di stati. E quindi gli stati più forti devono prendersi carico della debolezza, della difficoltà di alcuni stati in questo momento e aiutarci. Se qualcuno ha tratto vantaggio, qualcuno ha perso dall'entrata nell'euro. E quindi il Movimento 5 Stelle vuole un po' riequilibrare quell'ordine, far riemergere l'ordine e l'equilibrio dentro l'Unione Europea. Infatti noi proponiamo gli Eurobond, gli Eurobond che sono dei titoli di debito europei, dove quindi non ci sarebbero più i diversi titoli di Stato italiano, tedeschi, spagnoli. Non ci sarebbe più questo famoso spread sulla base della quale poi minacciano e fanno misure di austerity. Ci sarebbe un unico titolo di Stato, un unico titolo del debito, che è quello europeo. E quindi chiaramente gli stati più forti potrebbero garantire che questo debito venga ripagato anche da quelli più deboli. E lì emergerebbe lo spirito comunitario dell'Unione Europea. La vera Unione lì emergerebbe. Noi vogliamo proporre tutte queste riforme, vogliamo proporre tutte queste nuove misure. Non vogliamo necessariamente uscire e stracciare i trattati perché siamo euroscettici, perché siamo solo protesta, non facciamo proposte. Noi abbiamo fatto tantissime proposte a livello regionale, a livello nazionale. Siamo una forza coerente, credibile. Finora quello che è stato promesso nelle varie campagne elettorali è stato fatto. Si sono tagliati gli stipendi, abbiamo restituito i finanziamenti al partito, è partito il microcredito. Tutte cose che i giornali media non vi dicono, non vi fanno sapere. Vi riempiono la testa degli 80 euro di Renzi. Oppure un altro trattato che noi vogliamo andare a discutere è il trattato firmato dall'Unione Europea con il Marocco. Forse non tutti sanno che questo trattato prevede la diminuzione drastica dei dazi e dalla diminuzione dei dazi i prodotti marocchini, soprattutto i prodotti agricoli, possono entrare in Europa. Ora, l'Italia, soprattutto il sud Italia, era un po' il giardino dell'Europa. Fornivamo l'Europa dei nostri prodotti agricoli, prodotti che sono eccellenti, sono famosi in tutto il mondo. Pensiamo all'arancia siciliana, è famosa in tutto il mondo per le sue proprietà. Con questo trattato è più conveniente importare prodotti dal Marocco piuttosto che coltivarli noi. E molti agricoltori mi hanno detto che lasciano le arance sugli alberi perché non gli conviene neanche più raccoglierle. E quindi è questa l'unione che vogliamo. Tra l'altro in Marocco non vengono rispettate le normative UE sui pesticidi, sulla mano d'opera, sul rispetto dell'ambiente. Noi siamo vincolati a delle regole giuste perché tuteliamo l'ambiente, tuteliamo i diritti dei lavoratori. Invece però dobbiamo mangiare prodotti avvelenati, prodotti da persone schiavizzate a 5 euro al giorno. Anzi, molti italiani addirittura vanno a produrre in Marocco, non conviene neanche più produrre in Italia. E questo è il modello di sviluppo che vogliamo. Quindi il Movimento 5 Stelle vuole andare in Europa per ristabilire un ordine, per rappresentare finalmente gli italiani, per essere in Europa, perché finora non ci siamo mai stati. Il 25 maggio è una data importantissima, è fondamentale che tutti andiamo a votare, perché se non andiamo a votare continuiamo a fare il loro gioco. Dobbiamo essere consapevoli di cosa andiamo a votare. La consapevolezza la troverete non appena andate a vedere quello che i ragazzi hanno fatto sinora, in un anno che sono dentro le istituzioni. Non è vero che non hanno fatto niente, è quello che vi fanno passare in media. Io vi chiedo quindi il 25 maggio di coinvolgere quante più persone a questo importante compito. è un diritto, l'unico diritto fondamentale che abbiamo è un'arma nelle nostre mani. Con la matita possiamo cambiare questo Paese attraverso l'Europa. Grazie.